E ciao a tutti ragazzi, ebbene, ritrovati, ritornati, rieccoci, insomma, nella Road to Diamonds. Mi presento, sono Bebbo, Bebbo 3393, e questa è la serie della Road to Diamonds. In primis voglio scusarmi con tutti voi che tutti voi che amate la serie, e tutti voi che comunque mi seguite per la Road to Diamonds per questo lunghissimo periodo in cui non ho caricato video sulla Road. Ma se continuate a seguire il video vi spiegherò il tutto. Questo video, o meglio, da questo video in poi, la Road avrà una serie, seria, svolta. Un cambiamento della serie che appunto dipende assolutamente da voi. Per la prima volta in vita mia vi chiedo di utilizzare il mi piace e il non mi piace, soltanto per farmi capire se la serie realmente vi piace o se non vi piace. Sto realizzando questo video uno per capire quanti di voi realmente adorano questa serie, quanti di voi realmente aspettano questa serie, e quanti di voi realmente non vedano l'ora che io riprenda questa serie. Se fai parte di questa categoria di persone, lascia un mi piace. Se per te la Road non è una serie che la vuoi vedere nel mio canale, o comunque non ti piace, lascia un non mi piace, ok? Vi invito di farlo tutti. Cioè, ve lo chiedo per favore perché ci tengo seriamente a sapere il vostro feedback in merito a questa cosa. Anche perché io con questo video ho tante cose da dirvi. Se siete interessati, seguitelo tutto. Quanto meno, se ci tenete a MeCommerce o al Pikachu, se ci tenete alla serie, partiamo dal presupposto che sono molto, moltissimo affezionato a questo mondo, ok? Quello che vi sto per dire pure a me un po' mi dispiace. Però guardo anche l'altro lato della medaglia. Uno dei fattori che mi ha fatto stancare, tra virgolette, di portarvi non Minecraft ma proprio la serie Road to Diamonds sono stati tutti i problemi che ho avuto. In questo momento io non sto utilizzando l'ultimo backup perché dovrei avere qui la costruzione della farm di ferro che ho realizzato insieme a Gravier. Bensì, non è così, è un altro salvataggio, ma comunque vedrò di recuperarlo. Ma appunto una cosa che mi ha fatto stancare sono tutti questi chunk bugati. Ogni volta problemi nuovi che avvenivano. Ad esempio, qui potete vedere un chunk bugato. Se premiamo F3 potete vedere che questo è un chunk di foresta, mentre qua Extreme Heals. Comunque lo vedete dal colore dell'erba. è un blocco di 16x16 che semplicemente io ho riempito con dell'erba per farlo sembrare che non ci fosse nulla. Ma in realtà qua c'era un bucone enorme, qua vedete ci sono un casino di chunk bugati. E tutte queste cose mi hanno col tempo fatto passare la voglia di continuare questa serie. Perché capite bene, io registro, ci sono dei problemi e questi problemi mi rovinano i video, mi fanno perdere tempo. Succede una, due, tre, quattro, cinque volte e la cosa comincia a stufarti. Quindi anche per questo voglio fare quello che adesso vi dirò. Quindi sì, sono molto affezionato al mondo, però come vedete ci sono tanti, tanti difetti. Per tutti quelli che mi seguono da tanto, sanno che la Road to Diamonds ha avuto inizio a maggio del 2015. Porto questa serie sul canale da oltre due anni. Capite da voi, capite benissimo, che nel corso di due anni YouTube è cambiato, io sono cambiato, il mio stile di editing è cambiato. Ad esempio se vi andate a vedere il primo episodio della Road to Diamonds, tipo sono circa 20 minuti, non dico di me che rompo alberi, ma più o meno è quello. Adesso, oggi nel 2017, non farei mai e poi mai un primo episodio così troppo lungo. È sempre la stessa cosa. Se è troppo lungo vi parlo 20 minuti di soli alberi. Nei video da 20 minuti li faccio, però magari in 20 minuti. Adesso, oggi, preferisco portarvi più contenuto. Questa è la mia idea di editing, comunque il contenuto video, poi queste sono cose ognuno la pensa come vuole. E adesso voglio farvi una domanda. Allora, siamo sì. Il primo io sono molto affezionato a questo mondo, perché comunque ci sono tante cose che mi appartengono in questo mondo. Ad esempio, per il mio raggiungimento dei 200.000 iscritti, ho realizzato un video sulla Road, perché è una stupidaggine, ho fatto sta minchiata. Però, quel video è sul canale. Questa costruzione è stata la mia prima collaborazione all'interno della Road, quando arrivo Snitex nel mondo. Ci sono tante cose, ad esempio pure questi monumenti stupidi. Qua è il mio raggiungimento dei 1500 membri su Telegram. Tutte cose che ho realizzato nel tempo e ci sono appunto video dedicati a tutti questi piccoli traguardi e bla bla bla. Appunto, vi dicevo, per questo ci sono molto affezionato a questo mondo. Ma, nonostante ciò, vorrei che non vi attaccaste troppo al passato. E qui venite in gioco voi. Adesso apparirà un sondaggio che vi chiederà vorreste una seconda stagione di questa serie? Per seconda stagione intendo Nuovo Mondo, visto che, come ho detto prima, avendo creato questo mondo nel 2015, questo mondo si è generato con la 1.8, perché nel 2015 non c'era la 1.12, ovviamente. Poi, col passare del tempo, sono uscite le nuove versioni e col tempo, piano piano, ho sempre aggiornato il mondo. E capite bene che l'explorazione diventava sempre più lunga, tipo i magma block, per trovarli nel Nether, mi sono dovuto allontanare, cioè, ho dovuto fare in modo che si creassero nuovi chunk con questi nuovi block, appunto, diciamo, un casino. Quindi, quello che vi chiedo oggi è questo. Vorreste una seconda stagione dove lo scopo sarà sempre quello. La porterò con più serietà, ma lo scopo sarà sempre quello, ovvero un command block che ci darà i diamanti delle sfide, con la quale dovremmo riempire la cesta della roda. Ovviamente la situazione sarà fatta molto più seria. Ogni cosa che farò sarà, appunto, incentrata nella sfida. E' semplicemente questo. Voglio creare un qualcosa di nuovo e voglio vedere in quanti siete pronti a percorrere questo nuovo percorso insieme a me. Quindi per questo ci tengo tantissimo che utilizziate il mi piace se volete continuare a percorrere questa cosa insieme a me o un non mi piace se preferite di no e continuo per come sto andando. Adesso, questa è una parte in più che voglio dirvi, voglio rispondere a un paio di commenti che mi sono arrivati non recentemente ma comunque che ho letto in qualche video scorso. Tipo, un ragazzo mi ha commentato Pepo, sei cambiato? Non sei più quello di una volta? Non stai portando quello che ha caratterizzato il tuo canale? Non stai portando le tue serie più belle come la Road to Diamonds, la Skygrid, la Pryzon? Comunque, mi ha nominato tutte, soltanto tutte le serie, quasi tutte le serie di Minecraft che ho portate e che comunque continuerò a portare. Semplicemente, qual è il discorso? Ho cominciato a smettere con Minecraft circa, o comunque ho diminuito con Minecraft perché dovete sapere che fino a 6-7 mesi fa portavo quasi solo questo. La Road ogni settimana, poi appunto c'era la serie della Skygrid, la serie del... la Pryzon. Credetemi, io giocavo a Minecraft circa, vi parlo anche off camera, cioè non è che registravo solo, proprio giocavo per i fatti miei. giocavo a me, vi parlo anche 8-9 ore al giorno, ogni giorno su Minecraft. Questo discorso l'ho fatto per oltre sei meno, forse anche un anno, infatti tipo, la serie della Skygrid l'ho iniziata quasi un anno fa, l'Opilaki Pryzon l'ho iniziata più di un anno fa, l'ho iniziata a giugno del 2016, l'Opilaki Pryzon, e ancora oggi la sto portando avanti con molta meno assiduità, ma comunque la sto portando avanti semplicemente perché se tutti i giorni mangiate pasta col sugo, perché è buonissima la pasta col sugo, poi quella che fa mia mamma personalmente a me non mi piace da morire, non ho provato quella delle vostre mamme, però mia mamma è molto brava alla pasta col sugo, capite bene per quanto buona è mangiarla mattino, pomeriggio, sera, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, per un anno intero, capite bene che dopo un anno cominciate a dire oh, ketchup, ketchup, cioè qualsiasi cosa di colore rosso cominciate a dire ah, cioè, capite bene che un attimino Minecraft mi ha stancato per il troppo Minecraft, quelle del canale, semplicemente prima, cioè un anno fa avevo una voglia incredibile di giocare a Maragama, una voglia smorbata, appunto come vi dicevo dedicavo a Minecraft 8-9 ore al giorno che non sono poche, ovviamente uno per giocare off camera, perché giocando off camera mi portavo avanti per i video e portandomi avanti per i video potevo farvi migliori video, quantomeno i video che secondo me comunque vi ho sempre portato dei contenuti secondo me, poi se per altri che palle uno che gioca a Minecraft ognuno ha la sua idea. Tanto per dirvi, addirittura ai tempi guardavo tutte o comunque quasi tutte le serie vanilla di YouTube Italia, quasi tutte, la vanilla di Eren guardavo ogni video, la vanilla di Marci guardavo ogni video, la vanilla di Surry Surreal Power guardavo ogni video, la vanilla di Tech4Play guardavo ogni video e sicuramente me ne sto dimenticando tantissime altre, la vanilla di Gravier, quando ho conosciuto Gravier ho cominciato a seguire pure la sua serie e vi ripeto sicuramente me ne sto dimenticando altri ho visto pure qualche video della vanilla di Mark qualche video della vanilla di Stepney anche se magari comunque lui Minecraft lo gioca in modo diverso diciamo chi lo segue lo sa lui Minecraft lo gioca in modo diverso rispetto a come lo giochiamo io Surry appunto a queste persone che vi ho elencato qua diciamo per lui Minecraft è più sullo stile cazzeggio e ci sta perché alla fine una cosa bella di Minecraft è proprio questo che lo puoi giocare in tanti modi diversi è uno dei pregi di Minecraft ha così tanti giocatori proprio per questo perché puoi benissimo giocare il lato nerd di Minecraft quindi stare otto ore a fare una cosa oppure puoi giocare Minecraft appunto dal suo lato creativo avete capito dedicavo a Minecraft davvero tanto tempo la cosa mi ha stufato semplicemente raga dopo un po' cominciate wow ne avevo le palle piene ve lo dico sinceramente e nonostante infatti vorrei capire come certe persone fanno a dirmi Peppo sei Peppo sei cambiato prima facevi video per passione ora li fai solo per soldi quando ve lo dico sinceramente la ROAD mi monetizzava in un modo incredibile ragazzi sono serio la ROAD mi andava molto molto bene cioè molto 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 bene mi andava la ROAD cosa che non fanno tutti i nuovi video quindi vi prego se dovete darmi del money grabber quantomeno datemelo sui video che realmente monetizzo perché vedere la gente che mi commenta un video ah Peppo hai fatto questo video solo per fare il soldi ma fare il soldi cosa semplicemente a me ogni tanto piace cambiare perché sembra la stessa roba a me in primis stufa quantomeno a me quindi non dilunghiamoci rimaniamo sul discorso ROAD TO DEMONS allora la mia idea sarebbe quella di riniziare una seconda stagione sempre con le stesse meccaniche ovvero diamanti sfide riempire la chest poi per chi mi segue per chi sa appunto voglio mantenere l'idea dei command block che determinate sfide puoi vincere il command block che ti permette di trasferirti da bioma a bioma o comunque lo possiamo fare ogni totte episodi tipo che ne so ogni ogni dieci episodi della ROAD tipo vinci un sono minchiate no ma mi piace giocare minecraft nel mio modo nel mio stile poi se magari a qualcuno può non piacere ragazzi ci sono 10.000 vanille su youtube italia basta che scrivete minecraft vanilla ita vi esce il mondo veramente detto ciò ragazzi quello che vi dovevo dire ve l'ho detto vi prego tantissimo non siate pigri quantomeno se siete fan miei e della serie vi chiedo soltanto un secondo del vostro tempo usate il dito mettete il mi piace se volete supportare se volete supportare la serie e volete il continuo e rispondete al sondaggio che è spuntato prima se appunto volete realmente un seconda stagione nuovo mondo ovviamente il mondo generato in 1.12 non in 1.8 come in questo caso tutte cose nuove nuovo stile nuova cosa eeeh tutto nuovo tutto nuovo veramente fatemi sapere la vostra ci tengo da morire veramente ragazzi tengo tantissimo ovviamente state tranquilli che non passerà un mese per il prossimo video della road ma già darò tipo 48 ore di tempo a questo video poi in base a queste 48 ore passate sapete che già dalla prossima settimana ho intenzione di portarvi appunto in base alle vostre decisioni quello che fare ok quindi tranquilli se volete la road non uscirà tra un mese ma la faremo uscire il più presto possibile sempre di mercoledì diciamo in ogni caso non preoccupatevi poi per il download del mondo ragazzi siccome sicuramente me lo chiederete nel prossimo episodio se lo volete quindi dipende da voi se volete il prossimo episodio nel prossimo episodio vi lascerò il mondo della road questo qua che vedete o meglio penso che vi manderò quello dell'ultimo video diciamo datemi un ottimo tempo di giovarlo comunque nel prossimo episodio vi lascerò in download tutto il mondo della road to diamonds così ve lo potrete esplorare e nulla diciamo vi potete divertire da soli con i vostri amici fate voi signori detto ciò come già detto vi invito a fare tutto quello che vi ho chiesto vi prego è seriamente importante vi farò pure per l'andazzo del canale e nulla vi voglio bene ad un prossimo video e ciao ciao ps io personalmente non vedo l'ora di questo nuovo inizio spero in voi